Lo Zoo di 105 presenta Faccia a Faccia, il modo migliore per far incazzare qualcuno. Oggi nel Faccia a Faccia abbiamo usato la voce di... Vuoi per cortesia far soffriggere le mele come hai fatto con le cipolle in modo così sublime? Intanto signora, vorrei dirle che solo per il fatto di averci mandato la sua ricetta che noi stiamo cucinando, lei ha vinto questo bellissimo cesto. Ma io non ho fatto ricetta, non lo so se c'è mia figlia, boh. Laggiù c'è una bellissima... Vieni, vieni con me. No, no, non posso scendere. Non faccia così. Vai al telefono. Non posso scendere io. Oida. Olè, partiamo subito forte. Andiamo! In un modo torno presto, vedrò l'erò quel maledetto, e con il corpo mio mortale, vedrai che la farò pagare. Hai capito? Signora. Sei pronto? Oila! Uè, chi ne è? Intanto signora, vorrei dirle che solo per il fatto di averci mandato la sua ricetta che noi stiamo cucinando, lei ha vinto questo bellissimo cesto. Hai vinto? Vuoi, per cortesia, far soffriggere le mele come hai fatto con le cipolle in modo così sublime? Ah, cipolla. Intanto signora. Cipolla. Eh, signora. Signora! No, signora! Signora! Ma non faccia così! Eh! Ma non faccia così! Sì, sì, fatto così! Aia, faccia così! Tu è tutta, ragazzo, tua morte è viva, allora, già vengo a parlare e ti mi dà a parlare a quegli e fare. Oila! Ma ora, fammi poco, va, arrivederci! Oila! Gli rimasta la cipolla. Quanto l'avo io! Sì, sì, adesso devo fare soffriggere le mele come hai fatto con le cipolle in modo così sublime? Sì, sì, adesso devo fare soffriggere le f***e da arco! Ogni tanto, signora, vorrei dirle che solo per il fatto di averci mandato la sua ricetta che noi stiamo cucinando, lei ha vinto questo bellissimo cesto. Ah, sì, cesto da che c***o ande? Corri, c***o! Come i tuoi c***o! Guardate laggiù cosa c'è. Ma non è il figlio! Cosa viene laggiù? Laggiù c'è una bellissima... Vieni, vieni con me! C***o! Vieni con me! Sono un c***o ancora perché devo farti il brutto bastardo, c***o! Ma mi ti inc***o è il mio primo c***o! C***o! Oh! Oh! Non è la giornata giusta, c***o! Ma non sapiii? C***o! Vedete l'attesa su qualcuno! C***o! C'è una scultura di neve! Che di neve, c***o! Quella che sommino nella scultura, c***o! Aveva strisare neve, c***o! Brutto bastardo! Ma vieni qua la mia, c***o! Che andiamo a farsi una bella serata, c***o! A bamba e troie! Ma no! Vediamo un po', una scultura di neve! No! Una riga alle neve! Una riga! C***o! È timido l'artista, è vero! Now put your hands up! C***o! Sono timido! A forza mi sto sore a c***o! A che forza un buso del c***o! 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 Dopo uso uno specchietto, un gramma, insomma un 10x10, dopo uso una carta di caricabile il telefonino e sacchettino con dentro la merce, la metto sul vetro e poi fai fermare. Si sposta un po', si fa una righetta, si arrotola la banca nota e... Hai capito? Beh, non me la faccio vedere, tanto le credo sulla parola. Eh sì! Eh, ma faccio il c***o che te ha, sicuramente, per essere un cocainomane! Oila! Lui! Oila, un c***o! Che scuola, ragazzi! Che insegnamenti!